oggi siamo a calazzo di cadore per il mega meeting ski alp organizzato dalle guide e oggi si va sull'antelao. Pozzale team, pozzale team, abbiamo un ed è che mettiamo sugli sci ora arriviamo, spune la nebbia e via. Mega meeting oggi, calazzo, antelao, primo ristoro. ecco che si vede antelao finalmente che si apre e siamo in canottiera e si è riannubolato ancora e il ghiacciaio, in bella vista ecco i si vanno guardatevi io, l'organizzazione ha espiritato come è? bene? bello? bello? e iniziamo a partire la discesa si vola! si parte! ecco che! extrema, guardatevi io, guardatevi io! guardatevi io! guardatevi io, guardatevi io, guardatevi io! guardatevi in Sì 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 Slavinetta lì che scarica un po' di neve altrimenti fa caldo L'anno scorso era L'anno scorso ricordi che figata Ah è scrosta già rotta Faticato sempre Sì Sosta a capare degli alpini Ora Torno a Paracetelan Ultimi metri Col dragone Col dragone alato Arrivati Abbiamo già anche mangiato la pasta E beh io sia